Sincronizzate gli orologi. Domani, sabato 30 marzo, anche in Abruzzo, scoccherà l'Ora della Terra, la mobilitazione globale organizzata dal WWF per un futuro più sostenibile. Attraverso il simbolico spegnimento delle luci, con l'Ora della Terra, il WWF vuole coinvolgere cittadini, istituzioni e imprese nella lotta ai cambiamenti climatici. Tante le iniziative nella nostra regione, ce ne parla Luciano Di Tizio, presidente della WWF Abruzzo. Ma in Abruzzo hanno aderito allo spegnimento delle luci dalle 20.30 alle 21.30, a tutti i capoluoghi, tutte le città più grandi e tantissimi comuni con minor numero di abitanti. È una mobilazione internazionale che coinvolge il mondo intero, per cui è importante essere presenti. Ma in Abruzzo abbiamo fatto di più, abbiamo organizzato tantissime iniziative collaterali, a cominciare dalla mattina nella pulizia delle spiagge. Abbiamo organizzato quattro pulizie delle spiagge, a Martinsicuro, a Rosso degli Abruzzi, a Pescara e a San Vito Chietino. In questi quattro posti ci saranno i volontari WWF che puliranno e raccoglieranno plastica a mano, raccoglieranno tutti i rifiuti umani a mano. A Pescara ci sarà un fatto in più, parteciperanno anche alcuni sub che raccoglieranno i rifiuti anche in mare. Puliremo la spiaggia e puliremo la prima parte del mare, là dove ci facciamo il bagno di solito. Tutto questo anche in attesa dell'arrivo del fratino che in qualche spiaggia ambruzzese già c'è, in qualche spiaggia è già cominciato a nidificare. Poi il pomeriggio ci saranno tante altre iniziative, ma nei parchi nazionali, il parco della Maiella e il parco del Gran Sassa hanno aderito. A Chieti avremo un convegno al museo universitario in cui si parlerà di luce, del cielo di aprile, dei problemi connessi all'illuminazione artificiale anche per la salute umana. Poi tantissime cene al lume di candela in varie parti d'Ambruzzo. Ma anche il cittadino può aderire semplicemente spegnendo la luce dalle? Dalle 20.30 alle 21.30 per un'ora sabato sera e si fa in tutto il mondo seguendo i fusi orari. In questa maniera per chi fosse un osservatore da un satellite guarderebbe una grande ola universale mondiale che si sposta per tutto il pianeta e per un'ora spegne man mano varie parti della Terra. È un gesto simbolico perché certamente un'ora di buio non basta a salvare il mondo, ma è un gesto importante per segnare che siamo in tanti tantissimi a volere che i governi si impegnino di più e tutti i cittadini noi stessi ci impegniamo di più per lottare con gli ambienti climatici per salvare non il pianeta che si salvava comunque ma per salvare la specie omane.